Non si è confermata una distanza, noi vogliamo farlo, il contratto lo vogliamo riconquistare. Federmeccanica ha riconfermato oggi che la sua proposta di modello contrattuale e di salario è quella che ha già avanzato, e cioè che il contratto nazionale non è più il soggetto che aumenta il salario di tutti i metallomeccanici. Per noi questo non è accettabile e per questo abbiamo deciso unitariamente di proclamare 4 ore di siopero il 20 di aprile con manifestazioni in tutti i territori e di avviare una campagna di attivi, di assemblee in tutti i luoghi di lavoro.